Le invece grandi, non solo le multinazionali, ma anche le nostre grandi realtà industriali, potendo e scegliendo di delocalizzare la sede fiscale, per esempio in Olanda piuttosto che in Irlanda, come dicevi prima tu Fabio, in realtà ha consentito loro con l'Europa di amplificare moltissimi i propri guadagni. Quindi non è che con l'Europa ci stanno rimettendo tutti, c'è una piccola parte che ci ha guadagnato tantissimo e c'è la maggior parte delle persone che ci sta perdendo tantissimo. Più tra l'altro nella scala sociale si è in basso e più l'effetto di questa sofferenza tende a aumentare. Tutto questo non è casuale, è voluto chiaramente, non so se ricordate le parole dell'ex Premier Draghi quando disse che uno degli effetti, letteralmente positivi, che c'era stato con il coronavirus era che questo stress test in qualche maniera aveva finito per rafforzare le posizioni delle grandi società che sono virtuose, mentre coloro che traballavano, cioè sopravvivevano in qualche maniera, hanno dovuto chiudere. E questo veniva derubricato dall'allora Presidente del Consiglio come un fattore positivo. Il che non fa altro che far vedere ancora quanto sia distante la realtà di chi poi governa, quelli soprattutto che sono i flussi e gli interessi economici, da quella che è la vita della gente. Perché le migliaia, se non decine o centinaia di migliaia di aziende che hanno chiuso in questi anni dovrebbero essere per un Presidente del Consiglio una ferita, perché significa altrettanti, se non decine di persone in più che si trovano senza lavoro, con un mutuo, con delle difficoltà e con tutto ciò che poi ne deriva. È chiaro che il modello che in qualche maniera viene presentato, l'abbiamo visto con il 5 Stelle, cioè l'idea di creare da questi multinazionali o aziende particolarmente ricche, invece la possibilità di un minimo reddito di sopravvivenza alla popolazione che non dovrebbe neanche lavorare per questo. Perché il modello sarebbe questo? Sempre che si faccia poi quello che il padrone a quel punto ti dice. Siamo scivolati da una democrazia, quantomeno se non proprio realizzata, ma almeno l'illusione di averla, invece ha un controllo che viene esercitato da chi ha il potere economico, che a sua volta esercita del controllo su chi ha il potere politico e poi ci veniamo noi, cioè gli ultimi degli ultimi e stranamente stiamo perdendo terreno su tutto, soprattutto stiamo perdendo terreno anche su ciò che di economico non c'entra nulla, che è proprio la libertà. Penso che gli ultimi due secoli hanno visto una battaglia feroce da parte del popolo per cercare di avere dei diritti umani universalmente riconosciuti. Adesso sono diventati sulla carta così, ma nella pratica stanno venendo tolti. Questo è vero, è un'analisi corretta. Qui a Roma c'è un detto, perché poi noi questa cosa le diciamo sempre tutte le settimane, e non siamo i soli per fortuna, però poi le persone sembra non vogliono ribellarsi. Negli altri paesi accade, vediamo la Germania, l'Inghilterra se n'è andata dall'Unione Europea, ha detto ciao a tutti, anche se noi ogni tanto leggiamo sui giornali, no ci sta ripensando, non è vero ovviamente, è un po' come la storia dei sondaggi, una puttanata, io ho tanti amici che sono lì e dicono Fabio ma che state dicendo? Quindi è tutta una puttanata. Quindi è chiaro che se l'intento del Presidente del Consiglio, ovviamente ci riferivamo a Draghi, è ovvio, è quello che ha svenduto il Paese e Cossiga ce l'aveva detto, e poi è successo, è chiaro che per lui va tutto bene, perché se il negozio chiude, ma la multinazionale soprattutto con la sede in Irlanda, in Irlanda, cresce e vogliono farci diventare degli schiavi con il mangime dato un po' come le galline, no? Cioè tu gli dici il mangime, poi devono fare l'uovo e quello, il mangime è quello, quello è, non è altro, capito? Cioè finisce proprio l'uomo diventa una sorta di schiavo per pochi eletti, quello è l'obiettivo di questa gente annoiata, piena di danaro che ne vuole sempre di più, questo è il rischio che c'era già stato detto nel passato ma che non abbiamo voluto ascoltare.